scusate e buongiorno oggi vi porterò in un bellissimo posto qui a Vienna il palazzo più bello di Vienna faremo 40-50 minuti di corsa lenta e poi un po' di stretching il palazzo è assolutamente da visitare nel caso in cui vi trovate a passare da Vienna per cui prepariamoci e andiamo let's go e ciao prepariamoci allora ciao eh buon divertimento grazie ciao una donna distrutta ciao palazzo bellissimo almeno a mio parere lasciatevi un commento a dopo eh curiamo un po' ciao a 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 Qui è dove d'inverno i viennesi vengono a patinare sul ghiaccio, il parco della città. E' in Inter, una delle stazioni centrale, vuol dire che stiamo vicino. Continuiamo. Eh sì, ci siamo, siamo vicini, eccoci. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.